Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone si spingerà fin verso le isole britanniche, consentendo ad aria più fresca dal nord Europa di raggiungere gradualmente la penisola, accendendo le condizioni di stabilità ovunque da nord a sud, escluse le due isole maggiori. Le temperature risulteranno in diminuzione specialmente lungo tutto il versante adriatico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 8 maggio. Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con primi fenomeni a cominciare dai settori settentrionali della Puglia. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno a tutta la Basilicata e le zone interne pugliesi, con rovesce e locali temporali anche di forte intensità. Durante la sera la nuvolosità insisterà su molte aree, con precipitazioni più probabili sulle aree interne lucane. Temperature, come notiamo dalla grafica, che risulteranno in ulteriore calo, sia nei valori massimi che minimi. Venti moderati, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali e per quanto riguarda i mari, molto mosso l'Adriatico, poco mosso l'Oionio. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ancora prove d'estate. Il primo bagno dell'anno. Questa volta siamo sulle spiagge di Torre Lapillo, Lecce. Ringraziamo per la foto Gabriele Calò. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.